Quella fra i due americani, Aaron Kriksin e Andrea Agassi, vedete che sorridono Natalia Svereva e Gigi Fernandez Gigi Fernandez e Natalia Svereva E adesso vengono chiamate, due perso in finale Vedete Natalia Svereva ancora con questa giacca prelaciuta che le viene C-C-C in cirillico, la C e la R e la P, la C e la S e la P e la R insomma Ecco i canguri E la Svereva trova modo E l'hanno presa con filosofia, simpatiche Ed ecco i canzoni Ed ecco i canzoni Ed ecco i canzoni E' molto amica da tre anni E sono contenta di avere un amica così Grazie agli sponsor, la Ford, la Tennis Australia E' bello che siete così tanti qui E che venite a seguire il tennio femminile E che venite a seguire il tennio femminile E gli ho offerto un lavoro per tutto l'anno Ma lui ha detto che no, devo giocare al tennio anche io E' un'altra cosa che è stata con gratulata con le due avversari E' stato fatto dalla loro parte con quell'interruttore Le ha aiutate per romper la partita Ringrazio tutti voi che siete venuti qui Voglio ringraziarmi anche il gruppo che mi ha sostenuto Non ha citato Colcita Grazie a tutti 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 Grazie a tutti